Ok amiche mie, noi andiamo a fare un bellissimo cappello con due sfumature di colore. Allora, il cappello voi lo potete fare tutto di un colore, però io preferisco adesso farlo perché è un motivo molto particolare che va poi in obliquo. E' bellissimo ragazzi, per dargli un movimento. Andiamo, vedete io ho fatto già la fascia, ho lavorata in senso orizzontale, nella parte corta e poi l'ho misurata intorno al mio cranio. C'ho una testina in più. Questo ci mettevi i cappelli quando c'era il negozio. Vedete qua dietro? Allora, come potete vedere qui dobbiamo un po' tirare per unirla, però io preferisco farla più strettina che no più lenta. Perché? Perché voi sapete benissimo che il cannolè sbraca sempre, la lana non è una lana elastica, non è elastica. Perciò poi ci troviamo sto cappello, io lo odio quando mi fa così, che mi va sugli occhi. E siamo d'inverno. Adesso non fa freddo, anzi fa un caldo sti giorni ragazze. Però d'inverno quando fa freddo siamo belle bardate, cappotto, sciarpa, con sto cappello che si riscende sugli occhi. E mentre guidiamo a me fa un nervoso. E allora ecco qui, questa è la mia circonferenza. Voi lavorate, nel senso che adesso vi andrò a spiegare, e ve la misurate poi sul vostro cranio. Partendo orecchie, nuca e fronte. Ok? Andiamo subito. La fascia del cannolè è formata da una maglia, la stringo, non la conto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci, più uno, una catenella per girare. Dopodiché io vado a fare tutti i punti bassi, fino alla fine. Tutti i punti bassi. Questo è il mio primo giro di lavoro. Poi, quegli altri che seguiranno, noi prenderemo la maglia, la catenella, dalla parte opposta. Adesso vi faccio vedere. Non davanti della maglia, ma sul dietro. Questa non la lavoriamo perché non ce l'ho contata. Eccolo. Giriamo. Una catenella. Vedete? La maglia com'è. Io vado a lavorare qui dietro. E forma in questo modo il mio cannolè. Formando il mio cannolè. Ok? Io adesso qui sto lavorando un po' più morbido per far vedere a voi. Poi dopo io la fascia l'ho fatta più tiratina. In modo che non mi si slabbra. Ok? Fino alla fine del giro. Mi ricordo di iscrivervi al mio canale. di commentare e di mettere un like, come dicono le amiche inglesi. Allora, questo è il mio penultimo punto basso. Questo qui noi lo prendiamo per intero perché non riusciamo a prenderlo dalla parte esterna. E allora? Giriamo. Se no, se no non lavoriamo, cominciamo ad avere la nostra fascetta sempre più piccola. Una catenella e dai, andiamo sempre dietro e formiamo il nostro cannolè. Quando siamo arrivati alla circonferenza che diciamo noi, perciò questo noi lo possiamo fare. Per un bimbo, perché glielo misuriamo, lo facciamo, il cappellino, facciamo la fascetta, gliela misuriamo intorno alla testa e poi lavoriamo. Ok? Siccome qui noi stiamo lavorando con due sfumature di filati, adesso vi faccio vedere la tecnica. I punti che noi andiamo a fare per fare questo punto, fare, 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 devono essere i multipli di otto. Vedete già il cannolè? E' questo qui. Eccolo. Arrivata la circonferenza totale che noi dobbiamo fare un conteggio. Perché? Che cosa facciamo noi? Noi lavoriamo con due sfumature di colori. Perciò una volta che noi chiudiamo la nostra fascetta, aspettate che abbasso un po' così si vede meglio, una volta che noi lavoriamo la nostra e la chiudiamo, il gruppo di maglie deve essere sempre dispari. Perché? Perché una la facciamo in grigio e una la facciamo in grigio chiaro e una in antracite. Perciò se non vogliamo ritrovarci con una sfumatura alla fine uguale, dobbiamo stare attenti a fare questo conteggio, che è una stupidata ragazzi. Per prima cosa intanto, no, prima di chiuderlo ve devo contà, devo contà. Allora, ogni gruppo di questi due gruppi, cioè di questo lavoro che è formato dal grigio e dall'antracite, ha bisogno di otto punti, perciò uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ed è un gruppo, un gruppo che è formato da un grigio chiaro e da un grigio scuro. Ok? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e sono due. 1 2 3 4 5 6 7 8 e sono 3 1 2 3 4 5 6 7 8 e sono 4 1 2 3 4 5 6 7 8 e sono 5 1 2 3 4 5 6 7 8 e sono 6 1 2 3 4 5 6 7 8 e sono 7 1 2 3 4 e dovremmo farne un'altra ma non va bene perché se noi adesso andiamo a fare un altro 4 che cosa succede che poi abbiamo due serie di gruppi di maglie dello stesso colore ok perciò io adesso mi scuccio questo perché è in più e poi me lo riconto ma penso di aver contato bene per fare prima noi contiamo le quattro sporgenze 1 2 3 4 e 1 1 2 3 4 e 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 e 4 1 2 3 4 e 5 1 2 3 4 e 6 1 2 3 4 e 7 e poi ci abbiamo la metà di quel di quel gruppo di catenelle perché qui sono tutti pari ma noi dobbiamo farlo dispari perciò noi finiamo qua e continuiamo per un altro vedete ce n'ho uno ma qui io ne devo fare un altro perciò l'avevo fatto bene spero di essere stata chiara e allora niente continuiamo continua allora abbiamo detto che i punti devono essere multipli di otto perciò contiamo 12345678 un gruppo 12345678 due gruppi 12345678 e fino alla fine contate che devono essere ma moltipli di otto per fare questo tipo di cappello dopo di che noi prendiamo e chiudiamo con dei punti un mezzo punto basso così con dei punti un mezzo punto basso così fino alla fine ok adesso noi che cosa facciamo giuriamo la nostra fascetta il nostro canno canno le e iniziamo a lavorare con i doppi fili allora dato che io c'ho il grigio inizio col grigio e sono tre catenelle che simboleggiano un punto alto più una catenella ok noi andiamo direttamente a lavorare qui perciò andiamo con il nostro primo punto alto 1 2 3 e prima di chiudere il giro del punto alto noi ci attacchiamo il nostro filo prendiamo tutti e due insieme e quest'altro ce lo trasciniamo dietro e cominciamo a contare di nuovo allora vedete noi abbiamo messo il nostro punto qui perciò 1 2 3 4 vai un punto alto una catenella e gli altri tre punti alti 1 2 1 2 2 e 3 prima di chiuderlo noi prendiamo tutti e due i nostri filati e vamos grigio perla allora allora questo è sul punto io mi sono spostata un pochino ma era qui 1 2 3 4 e andiamo con il primo punto alto una catenella e gli altri tre punti alti e 1 e 2 e 3 prima di chiudere prendiamo pure l'altro filo e chiudiamo poi cambiamo filo che qui ci dobbiamo mettere il grigio antracite e contiamo 1 2 3 e andiamo sul nostro quarto una catenella e gli altri 1 2 chi vuole velocizzare o diminuire la velocità della mia mano ve l'ho detto cento volte ci sono delle modalità sul telefonino anche per allargare la visualità del telefonino per ingrandirlo basta che voi con le dita aumentate così e ve lo ingrandisce ok dopodiché cambiamo il filato e guardate vedete fino alla fine di tutto il nostro cappellino eccolo lo vedete il multiplo di 8 come riporta ci andiamo ad attaccare qui a non vi ho detto il questa è una lana piuttosto spessa e scusate che chiude eccola qui è un uncinetto del 4 e mezzo eccola vedete internamente eccolo qui questo perché ho dovuto fare un'aggiunzione che mi si era finito il filo eccolo qui adesso noi ricominciamo con il grigio sempre trascinandoci l'antracite sotto allora ragazze noi che cosa dobbiamo fare dobbiamo fare questo punto questo punto che è un po' in rilievo e in obliquo e allora andiamo uno due tre quattro e qui noi ci andiamo a rifare le nostre tre maglie alte uno trascinandoci sempre il filo perché sul primo noi il rilievo non lo possiamo fare no? ecco qui cambiamo cambiamo filo prendiamo l'antracite e qui cominciamo a fare il rilievo allora il rilievo come lo facciamo prendiamo il primo punto alto noi lo prendiamo così sotto ci trasciniamo il filo e facciamo un punto alto una catenella e poi qui sulla catenella sottostante noi ci andiamo a rifare quegli altri tre punti alti e uno e due e tre e non lo finiamo e cambiamo il filo ecco ok a questo punto noi ricambiamo il nostro filo eccolo qui qui si vede meglio perché lì è scuro trasciniamo sempre quell'altro sotto e noi eccolo qui una catenella e qui noi ci andiamo a rifare gli altri tre e uno e due e tre non lo chiudiamo perché prendiamo tutti e due i filati e dengete vedete già come si vede il rilievo? ok cambiamo il filato lo trasciniamo sempre e andiamo a fare il nostro rilievo rilievo e uno uno due e tre cambiamo rilievo rilievo catenella e uno e due e tre cambiamo filo eccolo qui andiamo finito pure il secondo giro e ricominciamo e ricominciamo due tre quattro e tre scusate ho preso pure il filo sotto uno due cambio filo vedete come viene in obliquo e il primo in obliquo una catenella e poi gli altri tre rasciniamoci sempre il filo sotto uno due due messi per terra sta accadevano meglio e tre cambio filo guardate vado ok ragazzi adesso continuo da sola fino ad arrivare alla sommità e poi chiudiamoci facciamo un pom pom allora ragazze io ho fatto uno due tre quattro cinque sei sette otto giri eccolo vedete quanto è bello e allora dentro è così guardate con i passaggi dei fili e andiamo subito a finire a chiudere questa questo nostro cappello che faremo in mezzo a allora 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 uno scusate ho preso pure il grigio antracite eccolo qui eccolo qui siccome adesso noi andiamo a chiudere e a semare un pochettino no per chiudere il nostro cappello noi facciamo tre catenelle quella in più la quarta non ce la facciamo e poi andiamo a fare una e una due dopo di che cambiamo il filo praticamente invece di tre noi facciamo due e ci ristringiamo ok andiamo qui facciamo il nostro punto il rilievo la catenella no e due punti alti uno e una no e 12 cambiamo il filo e continuiamo per tutta per tutto il cappello ok guardate in questo modo il cappello vedete già come si sta un po chiudendo ok ragazzi vedete già come sta stringendo il cappello si sta stringendo aspettate che sposto un po guardate continuiamo a stringere diminuendo le nostre maglie sempre le nostre 3 catenelle 1 2 3 e qui ne facciamo una scusate dobbiamo cambiare il filo e e una e due continuiamo ecco qui stiamo stringendo ancora di più ok eccolo questo finito il giro guardate già come sta restringendo adesso ne prendiamo uno e cioè facciamo le nostre 3 catenelle 1 2 3 e basta poi qui cambiamo il filo e prendiamo questa in obliquo cambiamo il filato e prendiamo questo in obliquo ricambiamo il filo guardate come si stringe andiamo qui veloce 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 bebe 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 dai giù fino alla fine del giro vedete come si sta stringendo ecco qui ragazze finiamo e il buco si è quasi ristretto del tutto manca soltanto questo allora noi che cosa facciamo tagliamo i fili e infiliamo il nostro lago delle maglie e arricciamo l'ultimo buchino per stringerlo ok così nel frattempo fermiamo pure quest'altro e qui sopra poi noi ci andiamo a fare il nostro pom pom se ci volete mettere il pom pom se no ci sono quei quella specie di di pelliccette no ma io preferisco il pom pom perché è un materiale ecco qui chiudiamo bene questo è il filo come potete vedere potete anche lasciarlo così finisco a chiudere bene pom pom quattro dita e un bel po di lana vado come potete vedere ce l'ho messo un bel po di lana la rimanenza del gomitolo e poi blocchiamo il filo qui in mezzo e tagliamo i laterali tagliamo il filo questo stiamo attenti a non tagliarlo e arrotondiamo ritagliandolo il nostro pom pom state che metto un po di carta ok avete capito ecco il mio cicciottoso pom pom e lo vado a cucire sulla sommità ok vado guardate che meraviglia di cappello ragazze che vi ho fatto anzi che mi sono fatta perché adesso lo indosso e ve lo faccio vedere questi fili vanno fermati perché sono quelli della giunzione che mi si era finito ecco i piccoli ritocchi e lo indosso eccolo ragazzi questo meraviglioso cappello che abbiamo fatto a due colori con questo punto eh in obliquo guardate che grazioso eh che poi ci abbiamo messo mezz'ora né più né meno perché guardate è semplicissimo e velocissimo per tutti i regalini prendete la circonferenza della testa e poi il punto sopra due colori voi lo moltiplicate per otto è multiplo di otto ve lo ricordate e allora amiche mie iscrivetevi fatemi la pubblicità mettete mi piace condividete e fate sotto un bel commento ciao un abbraccio guardate come ci sta bene con il mio maglioncino jacquard ciao